In uno dei video precedenti abbiamo visto come è facile realizzare oggetti animati e come fargli percorrere dei tragitti personalizzati. Ora vediamo come è semplice poter attivare queste animazioni non al caricamento della pagina ma al clic sul pulsante, al tocco di un pulsante. Vediamo prima le animazioni per riprendere il discorso dal punto precedente. In questa animazione c'erano delle gocce di acqua che comparivano, delle gocce di acqua che si spostavano, delle fiamme che si ingrandivano, delle fiamme che si spostavano. Supponiamo di voler fare in modo che le animazioni delle fiamme si muovano tutte quando io schiaccio il pulsante acqua calda e che tutte le animazioni delle gocce si animino quando io schiaccio il pulsante acqua fredda. Quindi prima di tutto dobbiamo fare in modo che le nostre animazioni siano tutte scatenate all'evento di un pulsante quindi la nostra scritta acqua fredda deve diventare un pulsante e soprattutto dobbiamo avere il controllo di ogni singolo nome di ogni animazione. Io avevo dato i nomi ad ogni animazione, vi ricordate goccia grande 1, groccia grande 2 eccetera. Quindi ora semplicemente dovremo andare a selezionare il nostro pulsante e dire che questo pulsante dovrà eseguire delle animazioni, più di una per l'esattezza perché dovrà eseguire l'animazione goccia grande 1, poi dovrà aggiungere l'animazione ed eseguire l'animazione goccia grande 2, poi dovrà eseguire l'animazione che si chiama vediamo un po' qua, goccia 1, quelle piccole e ancora una volta andare ad aggiungere ed eseguire l'animazione goccia 2. Vediamo che cosa succede. Il punto è che le animazioni come dicevamo in un altro filmato sono di default attivate al caricamento della pagina, quindi quando caricherete questa pagina in questo momento le vostre animazioni di tutte le goccioline e delle altre fiammelle sono comunque attivate al caricamento della pagina di default, però avendo creato un pulsante si è attivata anche la spunta del pulsante, quindi adesso dobbiamo selezionare le nostre animazioni delle gocce e togliere dalle animazioni delle gocce la spunta al caricamento della pagina. In questo modo rimane esclusivamente la spunta sul evento sul pulsante, in modo che guardando l'anteprima della nostra pagina nella finestra di anteprima interattività ePub le nostre goccioline rimangono ferme finché non andremo a schiacciare il pulsante acqua fredda, mentre le fiammelle quelle gialle ovviamente non hanno ancora questa opzione e quindi sono partite immediatamente al caricamento della pagina. Vediamo che cosa succede schiacciando il pulsante acqua fredda, ecco che partono le due goccioline che si ingrandiscono e partono le animazioni delle due goccioline. Ovviamente noi non vogliamo che si vedano le gocce che compaiono una successivamente all'altra, se volete potete agganciare nella finestra tempo l'esecuzione di ogni singola animazione in modo che si riproducano tutte contemporaneamente. Basta selezionare la finestra tempo e andare a selezionarle insieme nel pulsante, eccolo qui, tempo, bisogna cliccare sul pulsante, andare nella finestra tempo, selezionare tutte le animazioni e agganciarle con la catenella. Rivediamo ora l'anteprima, ora le goccioline sono ferme, appena schiacciare il pulsante acqua fredda partiranno tutte contemporaneamente. Vedete? Ricarico la pagina, tutto è fermo finché non schiacciare il pulsante acqua fredda e partiranno le animazioni tutte contemporaneamente dell'acqua fredda. Facciamo la stessa operazione sulle fiamme, quindi andiamo a decidere che il nostro pulsante acqua calda dovrà eseguire delle animazioni, quindi quali animazioni? Le animazioni che riguardano la fiamma grande 1, poi ancora una volta andiamo ad aggiungere l'animazione della fiamma grande 2, poi andremo ad aggiungere l'animazione della fiamma grande 3, quelle piccole, 1, ok, un'altra, aggiungiamo l'animazione delle, più sono le animazioni più ovviamente dovremmo andare a richiamarle una per una, quindi ci vuole un pochino di lavoro, però l'effetto sarà sicuramente accattivante. Benissimo, adesso abbiamo fatto in modo che le nostre animazioni all'interno del pulsante siano tutte attivate dal pulsante stesso, ma dobbiamo ricordarci di togliere l'opzione dalla finestra al caricamento della pagina, quindi da ogni singolo elemento selezioniamo tutte le fiamme che sono presenti sul nostro foglio, 1, 2, 3, 4 e 1, 5 e andiamo a togliere la spunta all'evento del pulsante, quindi non al caricamento della pagina, nella finestra delle animazioni che è andata a finire qui sotto e togliamo la spunta al caricamento della pagina, in questo modo rimane attivata solamente l'opzione sul pulsante. Ripeto, andiamo a selezionare il pulsante, andiamo nella finestra del tempo e se vogliamo che le nostre fiamme partano tutte contemporaneamente, dobbiamo semplicemente selezionarle tutte e agganciarle con la catenella, in questo modo guardiamo l'anteprima, sulla nostra pagina nulla si muove perché le opzioni al caricamento della pagina sono state tutte disattivate, ma se schiacciamo il pulsante acqua calda partiranno le animazioni delle fiammelle, se schiacciamo il pulsante acqua fredda partiranno anche le gocce e in questo modo è molto semplice poter realizzare dei percorsi animati da utilizzare all'interno di manualistica tecnica per mostrare il funzionamento di apparecchiature o percorsi come in questo caso il circuito di acqua calda e acqua fredda e altre situazioni interessanti.